Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Cancellare mezzo universo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così. Ridimmi come si chiama. Thanos. Abbiamo un vantaggio. Lui verrà da noi. Abbiamo quello che Thanos vuole. Perciò lo useremo. Parliamo del tuo piano. Non è male. A parte, che fa schifo. Al piano ci penserò io. E in questo modo diventerà ottimo. Wow. La fine è vicina. Metà dell'umanità continuerà ad esistere. Perfettamente bilanciato. Come tutto dovrebbe essere. Si ricorderanno di voi. Io sono Peter, a proposito. Dottor Strange. Oh, usate nomi inventati? Allora, io sono Spider-Man. a me sì. Ma � iscrizione. Grazie per la visione!